A gran voce però, perché sennò alzatevi pure, io vi voglio vedere anche un po', dai, forza, su tutti i composti lì, che tanto ci vediamo. Ci siete allora? Via! Su, 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 forza! Ok! Un cannoniere ed un portiere, determinati e scatenati, hanno la classe dei fuoriclasse. Ogni e benzi! Andiamo là! Sono veci i cloni, questi campioni, nel loro cuore batte un pallone. Ehi! Che campioni, ogni e benzi, si riferanno al campionato, sia per anni, sia per perci. Spazio di quel diavolato, che campioni, ogni e benzi, questa coppia è eccezionale, miglierà la nazionale. Che campioni, ogni e benzi, campioni simi. Che campioni, ogni e benzi, campioni simi. Che campioni, ogni e benzi, campioni simi.